Se in questi giorni siete in dubbio se venire o meno alla diciannovesima edizione del Romics mettetevi i belli comodi con delle belle notizie da darvi Venerdì 8 aprile dalle ore 16 e 45 si darà il concerto celebrativo per dare il benvenuto al grande immenso, geniale, innovatore, Go Nagai Su di quel palco ci sarà un fantastico cast dove canterà il cantante Douglas Meeking Il vocalist originale della sigla del grande Mazinga Inoltre saliranno sul palco il maestro Vito Tommaso L'autore delle sigle Gig Robo, Space Robo e Jaking Magnetico Robot Luigi Albertelli e Vince Tempera, autori della sigla Ufo Robo Goldrake Ed infine si esibiranno i raggi fotonici insieme a Stefano Bersola Daniela Palumbo, Giulia Morelli, Fabrizio Mazzotta e Giorgio Locuratolo Ma non finisce qui! Sabato 9 aprile al Padiglione 6 dalle ore 15 alle ore 17 ci sarà l'incontro celebrativo con Go Nagai Domenica 10 aprile, sempre al Padiglione 6 dalle ore 12 e 15 alle 13 ci sarà la consegna di cerimonia del Romics d'oro a Go Nagai Noi di Anime Click cercheremo anche di riprendere tutto Amici miei, adesso sapete e ricordate che se mancate è peggio per voi!